i slicer non c'è un ventaglio di slicer così aperto come invece capita nell fdm devo dire però anche le variabili che tu devi inserire dentro non sono così grandi non è che questi parametri il lo slicer originale della del any cubic che non ricordo si chiama photo work se non sbaglio si forse già orcano adesso lo guardo perché mi ero preparato del materiale a si foto foto workshop è fatto solo per i loro stampanti ma può essere customizzato non mi sento di dire che non è il migliore non lo uso perché per certe cose un po ostico però per esempio la possibilità di mettere dei testi sul modello che se avete necessità di fare un regalo per esempio e avete un modello volete scriverci il nome un iniziale o una data è un attimo per cui ti permette di farlo in un secondo questa sembra una sciocchezza ma secondo me può fare la differenza mentre invece chi tu box per la per mettere i supporti secondo me è il number one specialmente l'ultima versione dalla 1.7 in poi siamo veramente avanti sia nel modo che a lui di calcolare i punti medi dove ti consiglia di metterli da sempre per scontato che li metto manualmente ragazzi e non deve manualmente cioè in automatico non li metto praticamente mai che poi per la possibilità di usare un singolo perno per raggiungere più punti a stella cioè creare praticamente un albero un unico tronco da cui poi si diramano più parti che a loro volta diventano punti di supporto per altre estensioni questo da una grande libertà ma infatti la domanda che avrei fatto io e che anche modulo 3d scrive nei commenti parliamo dei parametri di stampa ma io ho in testa tutti i parametri di stampa che utilizzo ogni giorno per stampare a filamento e non ho problemi a elencarli ma invece per la resina com'è che funziona tanto molto dipende dalla stampante adesso luca magari possiamo un po un po un po si 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 dipende dalla stampante esatto dipende dalla stampante dipende dalla resina dipende dal modello perché chiaramente ovviamente noi parliamo noi passiamo sempre da temperatura di parlando di fdm temperatura di stampa velocità di stampa della ventilazione eccetera 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 mentre invece qui abbiamo dei parametri un po diversi che sono il tempo di cura quanto ad esempio quanto che il tempo di cura sostanzialmente è quanto tempo ci mette quindi dicevo praticamente il tempo di cura è quanto tempo terrà la stampante terrà il proiettore acceso per polimerizzare diciamo i punti dove servono perché come è fatta una stampante di resina sostanzialmente c'è un proiettore a luce ultravioletta che spara la luce la spara ovunque diciamo che è canalizzata generalmente in una specie di parabola una specie di cono comunque poi c'è il display il display va semplicemente a far passare solo nei pixel diciamo dai pixel che la luce solo dove vi serve sostanzialmente e lì sopra ci sta il fap e poi c'è la resina ovviamente il piatto va fino giù in battuta non proprio in battuta però comunque più o meno in fondo lasciando un certo tot di spazio che è l'altezza poi chiaramente del del layer dello strato che vuoi andare a fare ecco questa parte qui è fondamentale perché deve essere impressa e c'è un certo tot di tempo per farlo e come si diceva prima le stampanti rgb di vecchio di vecchia generazione ci mettevano circa dai sette ai tot secondi per fare ogni singolo layer quindi voi fate un conto una stampa da cento layer ipoteticamente voi potreste dirmi ci mette settecento secondi no perché bisogna ovviamente aggiungere anche i tempi di risalita rifluisce il tempo che ci mette che resta alta la stampa perché devi far devi dare il tempo a rifluire cioè per far rifluire la resina sotto al modello e poi dopo riscende e questa operazione ci mette del tempo quindi ci vuole più tempo quindi questa è un pochino spiegata un po come capita diciamo il processo della stampa in resina e questo qui lo ripete diciamo per ogni strato e quindi la struttura sale sale e si crea quindi i parametri possiamo possiamo dire che c'è la velocità effettiva del della risalita perché si può impostare quanto veloce e quanti millimetri risalire e di conseguenza anche riscendere e oltre ai parametri di di cura questi sono devo aggiungere una cosa che ho notato negli ultimi aggiornamenti della foto mono che hanno introdotto una decelerazione un'accelerazione per ridurre i tempi prima alle foto normali il piatto si muove cioè il motore va su e giù alla stessa velocità e lineare invece adesso a un jerk diciamo no se si può usare un termine cioè lei si stacca piano quando sale si stacca come se io lo mettesse la mia velocità però appena si stacca accelera in maniera diciamo esponenziale fino a che sale e la stessa cosa fa al contrario va giù veloce rallenta e poi quando arriva in fondo si appoggia lentamente questo ha notato che permette di diminuire molto i tempi perché io prima dovevo ragionare in maniera lineare invece adesso posso ridurli del 10 15 per cento con questo aggiornamento non ho ancora visto se le foto un vecchio modello lo permettono perché in teoria sì dato che è una cosa che agisce sul motore sì lì dipende ora onestamente non non lo so non l'ho mai provato però le vecchie versioni da quel punto di vista lì erano piuttosto limitate e sono limitate a parametri abbastanza basilari come per l'appunto era il il mero accelerazione 0 100 per cento anziché fare come sulle stampanti 3d fdm ovvero un un gerco come velocità iniziale e poi una accelerazione e conseguente l'accelerazione successiva quindi sì indubbiamente un bel miglioramento ma anche proprio per un discorso di sicurezza tra virgolette nella riuscita della stampa un'accelerazione molto utile uno può decidere che stampanti la come vedete il numero di stampanti che uno può inserire è abbastanza alto rimaniamo nell'ambito di quelle che conosciamo queste sono quella che ho io c'è la creality la elego esiste anche la saturn la mars 2 la mars 2 pro è quella col monitor mono queste impostazioni cosa generano generano una una vediamo per esempio la una foto nesca è quella che più più presente nelle case di chi magari ci ascolta abbiamo voi vedete il mio mouse il puntatore perfetto abbiamo la risoluzione e la grandezza e queste variano da stampante a stampante però più o meno sempre ragione del fatto che parliamo di monitor di lcd sono praticamente tutte uguali questi sono solo parametri che servono a valutare i consumi ma il calcolo di questi parametri incide sul tempo di di slicing del software per cui su programmi su oggetti complessi possono incidere anche del 300 400 per cento di attesa quindi se non siete interessati a sapere quanta resina consumate potete anche disabilitarli questi invece sono i parametri di stampa fondamentali l'altezza layer questo è il parametro su cui si stampa la maggior parte se vuoi una stampa più è raffinata abbassa questo livello il minimo è 2 ma il tuo occhio non lo vede il 3 è sufficiente cioè parliamo comunque di una risoluzione molto alta e questo è il numero di layer del primo strato che si deve letteralmente cuocere per fungere da base ben solida su cui cresce tutto il resto questo parametro al momento lo trascuriamo perché aggiungiamo troppa complessità anche questo lo trascuriamo lineare tempo di esposizione vecchie stampanti dai 7,5 ai 9 9 quando per esempio usi resine un po vecchie che hanno preso un po d'aria oppure che hai tinto con dei pigmenti ha bisogno aggiungere un po il tempo tempo disposizione base e esagerato come potete vedere tra 60 e 8 c'è un po di differenza vanno bene anche 50 serve proprio a cuocere la base tempo di delay cioè quando si spegne la lampada a prescindere dalla velocità di salita e riscesa quanto la lampada rimane spenta le nuove stampanti scaldano molto perché il fascio di luce attraversa abbastanza violentemente il monitor per cui è richiesto un tempo minimo di almeno 3 0 3 secondi io lo metto di 0 3 nelle stampanti e col monitor di questo tipo nella mia esperienza magari mi sbaglio vi dico quello che faccio io l'ho sempre messo a 0 1 0 2 e il ritardo della luce dei dei layer solo di creazione c'è quella tra i 60 secondi 3 secondi ma tanto non incide questi sono le i parametri cui faceva a riferimento luca prima che sono le velocità in millimetri questa è la velocità cioè pardon scusate l'altezza che raggiunge il piatto quando si stacca dal feb per poi riabbassarsi nelle ultime stampanti da 5 si è passati a 6 questo vale per i monitor da 6 pollici per i monitor da 9 pollici in su si va da 7 a 8 mm perché chiaramente questo questo fattore serve anche a permettere il riflusso della resina nel passaggio successivo la velocità di risalita e questi tre parametri sono fondamentali perché questi sono quelli che fanno decidono quanto dura una stampa a prescindere dal tempo di esposizione questi sono gli stessi nelle stampanti nuove a prescindere dai di 8 secondi ai 2 secondi questi questi valori non varano perché sono i valori di velocità fisica di altezza e discesa come dicevo questi valori all'interno comprendono anche un'accelerazione infatti se guardate i parametri che propone chi tu box delle di sia della mono x che della della elego sono altissimi questi valori perché loro sanno che è un'accelerazione per cui magari la stampante farà anche casino si muoverà anche troppo velocemente però il punto in cui si staccherà o toccherà a seconda del fatto che stia salendo scendendo sarà comunque a bassa velocità quindi i parametri di stampa sono questi questi sono quelli che vi salvano il fap volete andare a dormire lanciare una stampa notturna mettete questi valori bassi 70 65 e questo a 150 volete essere sicuri che che il lavoro diciamo abbia un tempo di cura accettabile io dico una cosa che non è corretta perché in realtà bisognerebbe sapere il tempo di cura facendo dei test sulla resina però diciamo che dagli 8 ai 9 secondi va bene questo questo è trascurabile perché dura solo per 7 volte questo è trascurabile perché dura solo per 7 volte questo invece decide la vostra qualità di stampa in altezza sull'asse x y la qualità di stampa è quella della risoluzione del monitor che usate sull'asse z è questo valore quindi questi sono i parametri poi l'infil è quello simile alle alle stampante fdm io non l'ho mai usato per cui non ne parlo il g code forse non è il momento di vederlo adesso lasciate quello che viene proposto di base e l'advanced questo invece abbastanza importante l'unico parametro proprio per sintesi per non riempire troppo di informazioni che a voi interessa sia applicare l'anti alias in cioè per anti alias in si intende quello che fa esattamente photoshop quando fate il contrasto di un'immagine agisce sui bordi di un'immagine e estremizza la differenza di croma di croma di valore cromatico tra il pixel chiara e pixel scuro quando si esagera su una foto la vedete friggere sostanzialmente applicare un anti alias in 08 a un bordo significa che quel bordo potrebbe diventare leggermente frastagliato perché forse quasi esagerato se c'è un oggetto troppo diciamo dettagliato questa l'idea per cui un anti alias in d4 mediamente va bene questo fa l'effetto contrario ma non è un vero bler è un è uno smart bler come per photoshop per cui mantiene il bordo omogeneo ma fa una specie di smusso su sugli angoli io non lo uso mai mai praticamente questi sono i parametri come vedete io adesso cambio da una all'altra questi parametri per esempio da una da una stampante vecchia una stampante nuova vedete la differenza come vedete le differenze per esempio nelle velocità grazie a tutti Grazie a tutti.